Guardi, non si offenda, ma io non credo di aver bisogno di lei, perché sto bene. Quindi non so nemmeno perché sono venuto qui. Perché? Beh, questo lo vorrei sapere io. Per me sarebbe già un buon inizio. Ma inizio di cosa? Questo non è un inizio, è una fine. Arrivederci. Io dovrei studiare. Io mi dovrei preparare, ma a casa... A casa non ci riesco. E invece io devo lavorare. A scuola almeno sono costretto. A casa mi costruirò una gabbia degli orari, dei metodi, degli obblighi dentro cui lavorare. Se lei vorrà, lavorerà. Non si può obbligare nessuno a lavorare. È la cosa più difficile di tutte. E invece io mi legherò alla sedia. E lo farò perché devo farlo, non perché voglio diventare uno di quegli uomini soli, però bravi, autonomi, efficienti, che magari sanno cucinarsi gli spaghetti alla... Ma alla che? Ma che c'è fame, scusi? Dicevo per dire. Comunque lo vuol sapere il mio problema? Non mi piacciono gli altri. Ora che gliel'ho detto. Chi non le piace, per esempio? Eh, c'ho una lista qui dentro.